7. Terminale Era un uomo di 45 anni, Terminale di Aids, che non riusciva a non fumare perché era anche un tossico. Camminava male perché la paralisi lo aveva raggiunto e io lo rincorrevo con il posacenere per non fargli bruciare le lenzuola. Mi contestava sempre, forse per essere certo che non lo abbandonassi mai. Commento Quando abbandoniamo il nostro corpo, abbandoniamo anche noi stessi, per come siamo, per come ci siamo costruiti, per costruirci sempre nuovamente, per come ne abbiamo bisogno, con altri corpi, in altre incarnazioni. Perciò anche la morte è sempre per il meglio. Perciò Perciò Perciò